L'hanno chiamato Alicina in onore di HAL 9000, il supercomputer di 2001, odissea nello spazio, di Kubrick. È il primo antibiotico creato in perfetta autonomia da un'intelligenza artificiale e per la prima volta da molti anni non è una revisione di farmaci già utilizzati. Rivoluzionario non solo per la sua genesi, ma perché promette di sconfiggere la tubercolosi e altri 35 potenti patogeni ormai resistenti ai farmaci noti, come il Clostridium difficile e l'Acinetobacter baumannii, che colpisce i veterani di guerra. Una conquista storica per il team dell'MIT di Cambridge guidata dal biologo sintetico Jim Collins e da Regina Barzilai. L'esperta informatica ha addestrato una rete neurale, un algoritmo ispirato all'architettura del cervello, ad apprendere le proprietà delle molecole procedendo atomo per atomo. Come primo compito i ricercatori hanno chiesto all'algoritmo di individuare i fattori che inibiscono la crescita del batterio Escherichia coli. Egli hanno sottoposto 2.500 molecole, 1.700 farmaci in commercio e 800 prodotti naturali, da fonti vegetali, animali e microbiche. Poi hanno esteso la ricerca ad altri 6.000 principi farmaceutici e finalmente la risposta, una molecola che non assomiglia a nessun'altra. Aspetto fondamentale perché a questo punto della guerra contro i batteri resistenti ai farmaci, il fattore sorpresa è necessario. E l'alicina a usarmi, del tutto nuove, interrompe il flusso di protoni attraverso la membrana cellulare. Dopo questo primo risultato i ricercatori hanno usato il loro modello su altri 100 milioni di molecole catalogate nel database online Zinc 15. In soli tre giorni hanno scoperto altri 23 potenziali candidati, strutturalmente diversi dagli antibiotici esistenti e non tossici. Nei primi test, l'alicina ha dimostrato grandi capacità antibatteriche in vitro e bassa tossicità nei test in vivo. Se superasse positivamente anche i test sull'uomo, sarebbe un'incredibile vittoria per la medicina. Si stima che le infezioni antibiotico resistenti possano uccidere 10 milioni di persone l'anno entro il 2050. E forse per la prima volta nella storia un nipotino evoluto di al 9000 potrebbe meritare un Nobel.